Iniziata la dodicesima edizione del Salone del Gusto Terra Madre di Torino, una delle più significative manifestazioni enogastronomiche alla quale la Regione Calabria partecipa insieme a 18 aziende agroalimentari d'eccellenza, rappresentative di tutto il territorio regionale. Ricco è il programma dello stand istituzionale calabrese, posizionato nel padiglione 3 dell'Ingotto, purato dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione, in collaborazione con Arsac e Slow Food Calabria, all'insegna della promozione delle produzioni di qualità calabresi, ma anche delle tradizioni nostrane e del nuovo modo di intendere l'agricoltura in Calabria, ossia un'agricoltura che sia etica e sostenibile. Gli chef delle federazioni italiane a cuochi stanno realizzando degli show cooking animati dal conduttore radiofonico e televisivo Federico Quaranta, spiegando ed offrendo al pubblico presente tradizionali pietanze calabresi, realizzate per lo più con i prodotti a marchio di qualità del territorio regionale. L'intento dunque della Regione Calabria è quello di una promozione a tappeto, sia sul territorio nazionale che internazionale.